Il mestiere che, diciamo, intraprendo già da anni, che è quello di fare la settima arte, io dico sempre che dipende e deriva da una grande malattia, in maniera positiva, nel senso positivo, nel senso che questo tipo di approccio che ho avuto con questo mestiere è dato dall'infanzia, cioè famiglia di artigiani, lavoravamo sulle immagini, mio padre mi portava al cinema, ma allora a quel punto mi sono innamorato di qualcosa che mi faceva viaggiare, quindi il cinema in generale, i film d'avventura, i film di genere, mio padre era un grande appassionato di film western, John Ford, Ox, insomma mi faceva vedere, mi faceva viaggiare queste cose, ma detto questo poi ho voluto intraprenderlo in maniera di realizzarlo per certi versi, ma l'ho fatto in maniera molto artigianale, avevo una bottega, facevo matrimoni, quindi ho avuto un rapporto con la macchina, quindi con la tecnica abbastanza positivo, nel senso che mi ci sono innamorato, ho cercato altre passioni, però nessuna passione mi veniva in mente, ho provato il modellismo, ho provato a fare anche la musica, che ahimè dovevo farla, però sicuramente il cinema mi ha acchiappato, quindi è diventato il mio hobby e il mio mestiere. Detto questo, poi il rapporto che io ho con questo mezzo, che poi è un mezzo di scrittura, per certi versi visiva, lo metto a disposizione per il mio immaginario, nel senso che io non sono un grande scrittore, non riesco mai a immaginare o a scrivere qualcosa che immagino, attraverso l'immagine, cioè io ho sempre avuto un rapporto sull'immaginare, e quindi questa cosa dell'immaginare, è come un po' in Sicilia abbiamo il punto, che si seguivano queste bellissime cose che facevano i kuntisti, adesso c'è Mimmo Cucicchio in Sicilia che lo fa, che mi riuscivano a far viaggiare attraverso il nero, cioè non vedevi nulla, però riuscivi a scrivere attraverso quella parola un'immagine, e per questo che poi alla fine ho fatto l'ignorante, io dico sempre che l'ignoranza è quella del cinema, perché il cinema ha tutto, ha la musica, ha il suono, hai tutto quello che vuoi, un lavoro, un mestiere difficilissimo, però un mestiere che ti mette nelle possibilità di raccontare una storia e di fingere, quindi di essere bugiardo, attraverso delle formule tecniche che sono a disposizione dell'idea, e quindi questa cosa, dopo che io ho amato questo mestiere, è diventata passione, a quel punto ho detto che ne faccio, e allora sono diventato un piccolo autore, come tanti autori italiani, che all'inizio, iniziamo molti anni fa, molti anni prima di conoscere anche Franco, e quindi di avere il rapporto, quel meraviglioso viaggio che abbiamo fatto con Cinico TV e poi quant'altro, all'inizio io mi appassionavo e volevo fare dei documentari, volevo raccontare il mio territorio, la Sicilia, quindi ero un mestierante, quindi lavoravo sempre sull'immagine, ho conosciuto i pastori, ho bevuto il siero, il latte, le pecore, ho fatto quell'esercitazione che mi portava sempre a raccontare, a memorizzare un periodo, ecco, il fatto di non avere scelto neanche l'immagine fissa, quindi la fotografia, era perché per me già l'immagine fotografica, l'immagine statica, era molto più complicata, perché in un solo scatto dovevi raccontare tante cose, allora quello riguardava più la pittura, io non sono mai stato un bravo disegnatore, quindi non sono mai stato un bravo fotografo di istantanea, allora a quel punto ho preferito raccontare per immagini in movimento, allora vedevo i film, i documentari di Flyerty, vedevo i documentari anche dell'ultimo scomparso De Seta, e quindi avevo questo rapporto sul memorizzare, allora nel cinema l'ho fatto pure, con i corpi, con la gente, con l'umanità, ma sempre raccogliendoli attraverso un'immagine, un'evocazione di qualcosa, quindi o un amore per il cinema, quindi un'inquadratura che ricordava qualcosa, ma sempre con il gusto, sempre con la malattia, ecco, la malattia che è quella che ti fa fare, non il citazionismo, ma l'evocazione su quello che tu hai visto e che tu rispetti del cinema del passato, e quindi il rapporto che io ho e continuo ad avere, anche ultimamente con le mie opere da solitario, è quella di evocare il cinema, quella di attraverso un'idea, però raccontare sempre attraverso un linguaggio, uno stile che poi è quella dell'evocazione del cinema che hai amato. Allora, questa passione che io chiamo malattia, sempre ripeto in maniera molto positiva, perché la malattia è sempre una cosa, anche Mozart era malato, era addirittura alcolizzato, era ammalato sul serio, però era un genio, era uno che si applicò definitivamente alla sua vita, alla musica. Ecco, io non ho avuto la fortuna di essere Mozart, però sicuramente l'avrei voluto essere, avrei voluto essere un musicista, perché il musicista è più calcolatore dei suoni, è una cosa molto più affascinante. L'immagine è un'immagine ormai alla portata di tutti, quindi adesso ti vai a scontrare anche con una realtà che è ancora peggiore, perché ormai l'immagine fa parte della nostra vita, l'immagine è dovunque, l'immagine è attraverso internet, Instagram e quant'altro uscirà fuori, magari questa intervista che stiamo facendo è già vecchia rispetto a quello che uscirà nei prossimi anni, però sicuramente non mi fa paura, non mi fa paura perché io sono sempre convinto che ci vuole qualcuno che scriva attraverso la potenza che ha questo mezzo e che è sempre stato così. Pensiamo un po' a Méliès, quando faceva i prestigi, toglieva quattro fotogrammi, erano già un prestigio, una magia, in una sala buia avevi quel prestigio, ma era una cosa che oggi la vediamo e sembra quasi banale, ma non lo è, perché proprio è quel tipo di rapporto che ho sempre avuto con l'immagine, quindi continuerò sempre, spero, è l'unica cosa che sto a fare, è fare immagini, anche per altri colleghi che mi attirano, mi attira l'idea anche di imparare, di imparare, di assimilare anche altri tipi di linguaggi, magari nella maniera positiva, negativa, mi piacciono molto gli esordi, capire un po' un nuovo autore, qual è la sua strada, il suo immaginario, allora lì mi viene ancora stimolo, ecco, riesco ancora ad amare questo mestiere, che per me, come dicevo prima, non è un mestiere, ma è una passione, questo mi capita spesso, spero che mi capirà sempre, non abbandonerò mai l'idea di lavorare con altri, pur facendo quello che faccio, lo faccio l'autore, adesso ho finito di girare un mio nuovo film, che Dio me la mandi buona, perché poi questo è un mestiere che è faticosissimo, costosissimo, che poi non ti ripaga di quello che hai fatto, però lo fai, rimani, rimane qualcosa, allora siccome non sono stato e non sono diventato un musicista, sono diventato uno che memorizza il proprio immaginario o memorizza l'immaginario di altri, questa è la mia considerazione a questo mestiere, questa settima arte che, come dico sempre, ha tanti, tanti meccanismi possibili e che sembrano facili, ma non lo sono, ma sicuramente è una cosa che ti può rappresentare, può rappresentare il tuo stato d'animo, può rappresentare la tua felicità, tutte delle cose che avvengono nei periodi, tu quando fai una cosa, un'opera, rimane sempre in quel periodo, anche se racconti una storia vera, la racconti sempre con uno stile, quindi è un periodo della tua vita, un periodo che volevi raccontare una cosa in un certo modo, poi li rivedi e neanche ti riconosci alcune volte, però sicuramente sono cose che avvengono, che avvengono, che avvengono e quindi è una cosa che, come dico sempre, il cinema è morto, come linguaggio, ma sarà in vita per sempre, ecco è un morto in vita, è un morto in vita perché le immagini sono ormai, come dicono tanti teorici, ormai sono morte, io non faccio che pensare e sono dentro questa tecnologia come dare un minimo di emozione attraverso il personaggio, attraverso un movimento di macchina, attraverso una bella fotografia, una bella luce, cosa che ormai si è convinti di poter fare, io lo auguro a tutti, io credo che sia un grande fallimento, credo che sia un grande fallimento e come c'è stato il feticismo nel ritorno al suono, no al vinile, come ci sarà e non si dimenticherà mai l'immagine a 24 fotogrammi stampati del digitale o dell'analogico, che poi non è un analogico ma è chimica, io mi incazzo quando dicono questa cosa dell'analogico, c'è la chimica e c'è il digitale, sono due linguaggi completamente diversi, esistono, sono bellissimi, quindi bisogna approfittare, ma i mezzi devono essere usati con la mente e con il proprio immaginario, dovete essere cultisti e quindi questo non è un insegnamento, però mi viene naturale dirlo perché siamo alla fine.